Presidente, il Carnevale di Fanno regala alla città uno spettacolo dedicato a Calvino. Quest'anno sono 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, mi è capitato di vedere questo spettacolo molto bello a Roma dedicato appunto alle fiabe di Italo Calvino e abbiamo pensato di portarlo qui a Fanno nel periodo di Natale. Ogni anno la Carnevalesca organizza un evento, diciamo tra virgolette, di Carnevale a Natale proprio perché intanto ci cominciamo a ricordare che a breve ci sarà il Carnevale e in più perché la Carnevalesca organizza anche eventi più prettamente culturali. Questo è uno spettacolo appunto con tutte le fiabe di Italo Calvino delicato, sicuramente opportuno in questo periodo e per celebrare questo grande autore italiano. Quando andrà in scena? Lo spettacolo andrà in scena domenica 3 dicembre alle ore 18 alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna, questo grazie ovviamente alla collaborazione anche del Comune di Fanno, Assessorato alla Cultura, la Proloco, la BCC, la Fondazione Carifano e l'Ente Carnevalesca. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.